Ciao, incontro sulla trattatistica fra il 1400 e il 1500. Ci fermiamo essenzialmente su due argomenti che sono la politica e la storiografia. Vediamo subito il primo, la politica evidentemente non è un argomento che nasce nel 1400, evidentemente già nell'epoca precedente, nella tradizione medievale, erano stati prodotti delle opere legate alla letteratura politica. Il punto di riferimento era sempre stato San Tommaso, come in buona parte della teologia e della filosofia dell'epoca, anche per quanto riguarda la riflessione politica, San Tommaso aveva rappresentato il punto di riferimento. Cosa vuol dire? Che aveva scritto un'opera, oltre alle opere più famose sue, la Somma Teologica, in primo luogo, aveva scritto un'opera che si intitolava il De Regimine Principum, cioè appunto il governo dei sovrani. Ecco, come devono governare. San Tommaso però ovviamente aveva un approccio che era volutamente, non in maniera erronea, ma volutamente teorico. Cioè c'è un significato religioso dietro all'azione politica? San Tommaso è convinto di sì, certo che c'è. Nel senso che l'avevamo in parte, e a quelle lezioni ti rimando, visto con Dante, no? Con il De Monarchia, poi ribadito da alcuni canti, soprattutto del Paradiso. Cosa ci diceva appunto il pensiero medievale in generale, e sicuramente San Tommaso in primo luogo? Che l'azione del governante aveva una sua ricaduta in ambito religioso. Perché? Perché se il governante governa in maniera retta, giusta, onesta, la città o la regione o il regno, quello su cui governa, evidentemente i cittadini, i sudditi, sono predisposti, perché evidentemente liberi da beghe politiche, sono predisposti a pensare all'aldilà, a pensare come si deve orientare verso il bene, verso Dio, la propria esistenza. Quindi il bene comune non è esente dalla ricerca del Paradiso, diciamo così, più semplicemente. E allora ovviamente San Tommaso si concentra su come il governante deve portare i propri sudditi ancora una volta verso Dio, verso una scelta eterna positiva. Capiamo da soli che era un approccio ovviamente teorico, nel senso che le indicazioni che dà San Tommaso sono di ordine puramente teorico. Cioè si dovrebbe fare così, si dovrebbe agire in questo modo, si dovrebbe portare il cittadino a vivere in questo modo, si dovrebbe, si dovrebbe, si potrebbe. Però ovviamente non c'è nessuna realtà concreta, storicamente determinata, che seguiva a quel tempo i dettami di San Tommaso. Per questo motivo nascono, più o meno, nello stesso periodo di San Tommaso, nascono altri trattati invece un po' più pratici, ecco, per studiare almeno quali sono le varie tipologie di governo, le varie istituzioni, in che modo si sono comportati, e quindi come si dovrebbero comportare i signori, i padroni, i podestà, che governano su alcune città, governano, oppure territori di vario genere. Ecco, si comincia a concretare un po' quel pensiero che San Tommaso aveva ovviamente teorizzato. Nell'umanesimo, quindi arriviamo al 1400, all'inizio almeno del 1400, certamente il genere letterario che si sviluppa è un genere affine, in qualche modo, a quello di San Tommaso, che vuol dire, non fraintendiamo, nel senso che speculum principis, cioè lo specchio del principe, ecco, è il trattato tipo del 1400, cioè il governante vero, reale, doveva in qualche modo specchiarsi in questo libro e ritrovarsi in questo trattato che parlava delle virtù che doveva vivere, la formazione, le caratteristiche proprie del principe perfetto, che evidentemente nella pratica non esisteva. Per questo, ecco, c'è un filo che unisce, ed è uno dei tanti fili che unisce il Medioevo all'umanesimo, no? Noi che siamo, anche per motivi scolastici, tanto legati a divisioni, periodizzazioni molto nette, ecco, questo va, certamente, è una filone di unità, una linea che continua fra il Medioevo e l'umanesimo. Anche, ovviamente, gli umanisti mantenevano quindi le posizioni astratte. Il principe ideale doveva essere, ovviamente, anche lui, giusto, buono, retto, onesto, eccetera, 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 e quindi fare un elenco delle virtù principali per poter governare bene. Ovviamente, nella prima metà del 1004 prevalgono opere legate alla educazione del principe, alla sua formazione iniziale. Nella seconda metà, ma queste sono sempre periodizzazioni scolastiche, evidentemente, prevalgono invece trattazioni relative alle problematiche legate specificamente alle azioni di governo. in entrambi i casi, però, rimane invariata l'impostazione teorica dell'opera, come dovrebbe essere il principe. Ed è in questo contesto che, verso la fine del secolo, si imposta, appunto, la novità di Machiavelli. Perché con il suo principe, un manualetto, di cui parleremo poi in un'altra video-lezione, l'impostazione è, invece, molto concreta, molto reale, no? Non sto qui a dire altro. Non c'è, appunto, una idealità dell'uomo di governo. No. Cioè, invece, la pratica, come adesso, in questa circostanza concreta, o simile a quella che si può trovare in questo contesto storico, ecco, come si deve comportare il principe per avere successo, non c'è una astrazione, non c'è una teorizzazione. Machiavelli è legato alla pratica, alla realtà effettuale della cosa. È vero che rimane in ambito umanistico la novità è soprattutto concettuale, non è, diciamo così, letteraria. Perché? Perché, ovviamente, è un trattato che vuole insegnare qualcosa. Si pone Machiavelli sulla cattedra, in qualche modo, della propria conoscenza politica. Poi vedremo, cresciuta indipendenza dagli anni passati come segretario della Repubblica Fiorentina, ma, appunto, rimane in ambito umanistico proprio perché vuole insegnare qualche cosa. Il trattato, ovviamente, ha una forte impostazione, possiamo dire, logico, argomentativa, no? che è proprio tipico del trattato dell'umanesimo, di epoca umanistica. Voglio dimostrare una mia idea attraverso, appunto, delle argomentazioni. Vedremo poi, entriamo nel dettaglio. Quindi c'è una forte, una forte dimensione argomentativa, come è giusto che sia in un trattato di questo tipo. Perché è legato al classicismo? Perché, evidentemente, il modello che viene dal passato diventa esemplare. Come volevano tutti gli scrittori di storia, o che si avvalevano di conoscenze storiche. Lo vedremo dopo con Guicciardini, perché per lui sarà la novità. Ovviamente, l'intento pedagogico è molto più forte, marcato, no? Anche se, appunto, manca quel principio di autorità che, in qualche modo, avevamo visto a suo tempo molto operativo in epoca medievale, no? E, in qualche modo, messo in discussione proprio dall'umanesimo. La storiografia, secondo punto, quindi, che andiamo ad affrontare è l'ambito, cioè, come si scrive storia, ecco, come andrebbe scritta storia, come si deve scrivere di storia. I umanistici, i maestri avevano, appunto, una concezione storiografica molto legata all'idea classica. L'idea classica significa l'idea latina, per lo più, in particolare parlo di Livio e Sallustio, che avevano impostato la storia, il racconto storico, ecco, in questo senso, il racconto storico secondo un'impostazione fortemente moralistica. Si parlava essenzialmente di guerra, si parlava essenzialmente di politica, la psicologia dei personaggi ovviamente era, aveva una finalità morale, o possiamo dire forse più precisamente moralistica, vuole insegnare. E quindi, attraverso a volte dei discorsi finti, fettizi, messi in bocca a personaggi storici, si vuole insegnare ai moderni qualche cosa. quindi c'è un fine morale che, come tutta la morale, deve ovviamente insegnare alle persone a seguire quella che è la virtù e a fuggire da quello che è il vizio. Ma, quanto c'era di storico, come lo intendiamo noi, cioè di scientificamente dimostrato e dimostrabile? Poco. Ecco, questo vale in buona parte per gli storici della letteratura latina, vale sicuramente per gli storici del 2004. La qualità dell'informazione è a discapito ovviamente dell'opera, cioè è un'opera in cui la dimensione scientifica è messa in secondo piano rispetto all'intento moralistico. Le fonti, le fonti si trovano più o meno sono verificate, le fonti sono importanti ma fino a un certo punto, ecco, si vaia l'attendibilità delle precedenti narrazioni, non tanto delle fonti su cui queste precedenti narrazioni si fondano. Ed è lì che si imposta la novità di Guicciardini. Proprio in questo la sua storia d'Italia abbandona questo intento moralistico che la storia doveva avere, poi ne parleremo perché non è così netta la questione, ma insomma si dà un peso direi forse maggiore alla documentazione, alla scientificità della trattazione un peso maggiore rispetto a quello che è l'intento pedagogico, l'intento moralistico, per cui la storia diventa strumento non per vivere secondo virtù ma per capire meglio la realtà politica che io, uomo politico, ho attorno. Cioè, studiando fatti che sono in parti simili, in parti diverse, su questo Guicciardini è molto onesto, lo dirà e lo vedremo poi insieme, studiando fatti simili a quello che sto vivendo io posso capire come posso comportarmi. Ma non c'è l'intento di appunto imparare a come vivere la virtù in questo frangente. Ed è per questo che la prospettiva anche storica di Guicciardini si amplia. il fatto storico non è più considerato proprio perché c'è questa tensione scientifica diciamo così dietro insomma non ci si può più limitare al fatto storico considerato nelle sue cause più prossime e nelle sue conseguenze più prossime. Bisogna contestualizzarlo appunto in un panorama che tendenzialmente è quello europeo perché stiamo parlando dell'Italia che evidentemente è inserita in un contesto storico, politico, sociale, culturale, europeo e in questo contesto così ampio le sue vicissitudini possono essere comprese più appieno. Guicciardini questo lo capisce è forse il primo che lo capisce il primo che lo mette in pratica nella sua storia d'Italia che appunto ha questo respiro molto più ampio quindi le fonti sono molto più ampie molto più devono essere molto più documentate sono delle fonti che devono in qualche modo essere attendibili perché 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 la storia deve essere ricostruita così come è avvenuta e poi parleremo appunto del ruolo della fortuna che comunque c'è e che comunque appunto anche in quel caso va studiato per poterne avere cognizioni di causa oggi per me che sto agendo politicamente quindi si distacca da quello che è il classicismo quindi c'è un passo avanti rispetto allo stesso Machiavelli quel classicismo ideologico che Machiavelli ha nel suo principe ecco viene in qualche modo superato da Guicciardini stesso non c'è una esemplarità nel passato ogni periodo ha avuto momenti bui momenti invece più luminosi ogni storia ha avuto delle caratteristiche delle cause delle circostanze che l'hanno determinata cambiando ci dirà Machiavelli ci dirà Guicciardini cambiando una singola causa circostanza il resto può cambiare di conseguenza quindi la storia non è magistra di niente semplificando un po' il pensiero di Guicciardini non si donna infatti situazioni nella storia situazioni perfettamente identiche per cui le conclusioni le conseguenze di un determinato evento possono variare al variare delle circostanze quindi Machiavelli aveva scoperto l'autonomia della politica dalla morale in qualche modo Guicciardini scopre l'autonomia della storia dalla morale o in generale l'autonomia in genere ecco possiamo dire così ci sono delle leggi proprie della politica delle leggi proprie della storia ma questo poi sarà una questione su cui ci fermeremo lungamente è invece anche l'opera di Guicciardini legata ancora al classicismo letterario perché ancora come volevano gli antichi latini considera la storia come un opus oratorium maxima quindi deve essere bella essenzialmente un'opera piacevole da leggersi l'opera che si occupa di storia deve essere bella pensiamo a tanti libri di liceo nostri appunto che parlano di storia in cui evidentemente giustamente questa dimensione è completamente tralasciata i nostri libri sono diventati di recente molto belli anche a vedersi ma non è mai un racconto affascinante appassionante coinvolgente come è giusto che sia un manuale di liceo ecco in questo senso altre forme della trattatistica ci arriviamo alla conclusione evidentemente il trattato ebbe molto successo in questa epoca perché da una parte paradossalmente si ricollega ai grandi modelli del passato Platone che cominciava a diffondersi come conoscenza letteraria concreta del greco in quel periodo e Cicerone che rimaneva il punto di riferimento sotto vari aspetti legato al passato ma contemporaneamente pare essere uno dei generi più frequentati proprio perché è un genere che può in qualche modo spiegare le novità a cui il pensiero autonomo degli intellettuali può arrivare cioè il trattato è proprio quel genere letterario che può spiegare la mia opinione in disaccordo con altri o in disaccordo con la tradizione con l'autorità la mia opinione su questo determinato argomento ecco questo qua è un trattato tutto sotto interessante se volete paradossale quindi legato al passato perché ha dei grandi modelli però legato all'attualità perché evidentemente è uno strumento utile per promuovere le proprie idee il rinascimento eredita quindi tale tradizione esistono però delle differenze nel 1500 stiamo parlando ancora di forma nel 1500 si scrive per lo più in volgare mentre nel 400 si preferiva il latino la trattatistica quattrocentesca è ancora ovviamente in forte polemica con le epoche precedenti quella cinquecentesca invece cerca di in qualche modo sintetizzare quelli che sono i risultati acquisiti nel 1400 e cercando di divulgarli direttua dando un certo ordine quasi codificando quel mondo ideale che il comportamento e il sapere in genere avevano con sé e allora arriviamo a livello formale per adesso ancora siamo fermi qua a livello formale si possono distinguere almeno due tipologie di trattato il trattato monologico e il trattato dialogico il primo il monologico come dice il termine greco abbastanza semplicemente è una sola voce che parla è quella dell'autore che evidentemente espone la propria tesi in maniera forte determinata attraverso l'argomentazione però ecco presenta una soluzione univoca quello che ti dico è giusto punto questo è il principio di Machiavelli che difficilmente poche volte lascia spazio al contraddittorio lascia poco spazio evidentemente alla discussione all'argomentazione contro l'antitesi ecco questa è la verità io ve la dico quello dialogico invece presenta a livello formale appunto delle diverse diverse voci che parlano fra di loro dialogico questo significa per cui dietro un personaggio c'è sicuramente la voce e l'opinione dell'autore ma dietro agli altri personaggi troviamo quelli che sono le possibili opposizioni a questa idea per cui è anche molto più affascinante come tipologia come struttura perché tu lettore che nulla pensi come l'autore ti puoi calare nel personaggio in uno dei personaggi che impaiono e far due quelle che sono le obiezioni che tu faresti all'autore stesso e trovare ovviamente nelle risposte del personaggio la risposta alla tua obiezione se è fatto bene possiamo distinguere all'interno del trattato dialogico altri due sottogeneri ma qua sono appunto schematizzazioni scolastiche utili ma insomma diegetico diegetico cosa vuol dire c'è una impostazione che è legata alla diegesi cioè alla narrazione quindi c'è un'ambientazione c'è un contesto in cui si svolge questo dialogo c'è una descrizione degli ambienti descrizione dei personaggi degli atteggiamenti eccetera eccetera esempio classico sono gli asolani di di Bembo come anche le prose della volga lingua ma anche il corteggiano di cui tornerò a parlare dopo accanto al trattato diegetico ovviamente c'è il trattato mimetico detta male un testo che assomea molto a un testo teatrale no? perché pochi sono i raccordi narrativi no? e così si concluse la prima giornata di discussione i personaggi si fermarono per per pranzare tutti insieme sto dicendo delle stupidaggine ma insomma ci capiamo in realtà tutto il trattato è tizio dice questo tizio dice quest'altro tizio risponde tizio domanda tizio argomenta tizio finisce con le battute del dialogo entriamo nel dettaglio dei contenuti appunto il comportamento e il costume abbiamo parlato di storia abbiamo parlato di politica rispettivamente Guicciardini e Machiavelli adesso parliamo di altri argomenti quindi quali sono i contenuti della trattatistica fra 1004 e 1005 certamente questi cioè il comportamento il costume no importanti perché per noi sono uno spaccato della civiltà del 1004 del 1005 molto molto importanti no però ci anche in qualche modo ci rivelano anche un'altra caratteristica proprio del 1004 e 1005 che è vero si rifiuta l'idea dell'autorità ma alla fin fine non fanno altro che riproporre un'altra autorità che è la loro cioè come ci si deve comportare a corte ecco il corteggiano di Baldassare Castiglione quello è appunto è un'altra ennesima autorità come dire che anche questo paradossalmente è una linea che lega il Medioevo all'umanesimo alle epoche successive il Galateo è una parola che è rimasta anche nel nostro vocabolario ma nasce come opera di Giovanni della Casa per cui come ci si deve comportare a tavola come ci si deve comportare con l'ambasciatore come ci si deve comportare durante il ballo di nuovo come ci si deve ecco l'autorità che rimane rimane importante quasi dialogo filosofico sono gli asolani di Bembo che sviluppa tematiche neoplatoniche in particolare l'idea sull'amore viene trattata guarda caso la tematica fondamentale della poesia della letteratura di tutti i tempi anche in questo caso si cerca si pretende in qualche modo di incidere quasi nelle prassi comportamentali del tempo però un altro argomento è appunto la filosofia ultimo è appunto l'argomento linguistico più specificatamente letterario ne abbiamo già parlato le prose della volgarlingua di Pietro Bembo 1525 segnano un punto importante della letteratura italiana anche in questo caso l'autorità indiscussa di quest'uomo fa sì che vengano assunti come modelli di letteratura da una parte Petrarca per chi vuole scrivere poesia dall'altra Boccaccio per chi vuole scrivere in prosa Boccaccio ovviamente specifica bene il Boccaccio dell'introduzione della cornice delle introduzioni alle diverse giornate e delle novelle più più belle più nobili ecco questo qua è il Boccaccio punto di riferimento rimaniamo un po' straniti dalla assenza di Dante ma ti rimando alle lezioni sul plurilinguismo pluristilismo di Dante che impedivano praticamente a Bembo di utilizzare di additare Dante come modello per la poesia troppa varietà quale Dante imito il Dante del basso inferno pieno di parolacce e rime sgradevoli o il Dante del paradiso o il Dante del purgatorio che presenta forse quella è difficile no è difficile quindi Dante viene messo da parte molto più comodo tra virgolette a ditare come modello per chi vuole scrivere in poesia Petrarca con il suo monostilismo monolinguismo ecco qui si chiude il nostro incontro perché evidentemente l'ambito andrà soprattutto quello politico e storiografico andrà affrontato molto più nel dettaglio con appunto delle video lezioni specifiche sul pensiero e le opere di Machiavelli da una parte di Guicciardini dall'altra a presto a presto